Comunque il Lazio con i ceconi ha recuperato il pallone, lo lancia sulla destra per Mettini Scusa Mary, sono destinato a interromperti oggi, il Napoli ha portato di nuovo a due le lunghezze di vantaggio segnando con Braglia al ventiduesimo, 3-1 quindi la situazione per il Napoli, a te la linea La palla è terminata fuori sull'azione che avevamo descritto, la rimessa in gioco dalla Juventus a voi Napoli Dove si gioca, ripetiamo, il ventiduesimo del secondo tempo Ma come si fa a essere così coglioni come questo? Dove si gioca il ventiduesimo del secondo tempo e come segnalato nel flash su Ameri il Napoli ha portato di nuovo a due le lunghezze di vantaggio sull'Inter Attenzione Ameri, sto per cercare la linea e prego di tenere chiuso il microfono al termine dell'intervento Grazie, via Ameri Sì, Bortolucci d'accordo, pochi stanti fatti siamo stati costretti a respingere l'attacco di un tifoso naziale in cabina, comunque l'azione prosegue da parte della Lazio con cross di Martini Esce Zoff dei pari, la palla attraversa tutta l'area avversaria appunto della Juventus termina in parte opposta dove è stato effettuato il cross Zoff interviene e rimette prontamente in azione ancora i propri compagni Grazie Grazie